lunedì 5 dicembre ci sarà l'assemblea generale di confindustria bergamo dove la farete la faremo a ranica presso la sede della sede l'angar delle tramvie elettriche bergamasche presso la sede della tebb quindi entriamo in questo spazio adibito a ricovero e partenza dei mezzi e arriveremo in assemblea con il tram e il significato è proprio quello di mettere l'attenzione su un tema legato alle infrastrutture che sarà argomento trattato in assemblea infrastrutture sostenibilità e quindi cosa di meglio se non all'interno della società che si occupa dei trasporti su rotaia della nostra città competitività e sostenibilità sono i temi scelti per questo incontro perché per la verità è competitività sostenibile questo significa competitività sostenibile significa non uno simoro ma la direzione verso la quale andare cioè le imprese il nostro territorio sviluppato evoluto robusto può crescere in una dimensione di maggior competitività quindi di aumento del valore aggiunto nelle catene di distribuzione nelle filiere nelle quali è inserito ma un percorso questo che può essere fatto in chiave naturalmente sostenibile dove sostenibilità è una parola che abbraccia la dimensione sicuramente ambientale ma abbraccia la dimensione sociale e anche quella di governance nella direzione ISG che ha l'acronimo così importante per lo sviluppo delle nostre imprese. Quali obiettivi e in quali tempi pensate di realizzare? Credo che sia un percorso never ending che non finisce mai vuol dire sostanzialmente miglioramento continuo ottimizzazione dell'efficienza ottimizzazione dei processi perché produzione movimenti energia siano il più possibile efficienti e competitivi ma allo stesso tempo quanto più efficienti e produttivi per l'intero sistema e territorio e ambito nel quale siamo inseriti. All'assemblea parteciperà anche il presidente nazionale che cosa vi aspettate da lui? Eh sì ci sarà Carlo Bonomi e il suo contributo sarà il punto di vista di Confindustria nazionale sul tema dell'Europa naturalmente sul tema del governo e delle ultime decisioni definite a supporto anche del sistema delle imprese e quindi sarà un dialogo interessante.